Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire un tavolo da ping pong. Cominciamo con il mettere giù un muretto di pietrisco. Tre spazi a lato mettiamone un altro. Di lato saltiamo cinque e mettiamone altri due, paralleli ai primi. In mezzo a quelli che abbiamo messo, mettiamo due staccionate di quercia scura, uscendo di uno dai lati. Successivamente, uniamo le due staccionate con delle lastre di quarzo. Sopra ad esse mettiamo sette pannelli di vetro bianchi. Poi riempiamo tutte queste parti sotto con stringhe. In questo modo potremo mettere su dei tappeti color verde. Per una grandezza di 5x4 per lato. A questo punto togliamo una riga qui. e sostituiamola con tappeti bianchi. Con questo, il nostro tavolo da ping pong è finito. E noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!